Buonasera, stiamo per iniziare, aspettiamo solo due minuti ancora. Intanto, come al solito, ricordo agli studenti dell'Insubria, in particolare Scienze della Comunicazione, che hanno bisogno dell'attestato di partecipazione di lasciarmi nome, cognome e email scritto in modo leggibile, ogni volta lo dico, ogni volta c'è gente che scrive delle cose illegibili che non so come fa a pensare che siano leggibili, cercate di scriverlo in modo veramente leggibile, perché se no poi non vi arriva e peggio per voi. Il foglio ce l'ha chi? Chi ce l'ha? Ecco, lì ce l'ha lei, se qualcuno ancora non si è segnato lo faccia e se qualcuno invece del pubblico esterno ha interesse a essere avvisato anche in futuro mi può lasciare l'email, perché questo è un ciclo che come sapete si fa tutti gli anni e per quest'anno è l'ultimo incontro, però riprenderemo a ottobre dell'anno prossimo e posso già dirvi che il tema saranno i viaggi spaziali e come sempre avremo relatori del mondo della fantascienza e anche della scienza, mi sono già assicurato per esempio il direttore tecnico dell'Accademia Internazionale di Astronautica che parlerà dell'astronautica dei secoli futuri, cioè di alcune missioni che sono già allo studio ma che sono tecnologicamente così avanzate che ci vorranno ancora decenni, forse secoli per essere in grado di farle però si è già iniziato a studiarle davvero, quindi già questo è un incontro molto affascinante poi vedremo sulle cose su cui non sono sicuro, non voglio sbilanciarmi ma ci sarà da divertirsi quindi chi vuole mi può lasciare l'email, in ogni caso il programma viene sempre messo verso fine settembre, inizio ottobre, nel home page dell'Insubria, sezione eventi, basta cercare la locandina di scienze fantascienza e nella sezione eventi dell'home page dell'Insubria c'è sempre tutto qui, detto questo, appunto adesso vediamo che ora è, sono? Che dite, iniziamo? Iniziamo? Prendete chi è in piedi prenda posto, cominciamo, invito i nostri due relatori a accomodarsi e dunque la registrazione attiva, possiamo iniziare? Ok, bene, allora cominciamo, andiamo ufficialmente il via a questo incontro che è come ho detto l'ultimo del ciclo di quest'anno di scienze fantascienza dove abbiamo parlato, lo sapete, il tema dell'intelligenza artificiale in particolare la robotica, ma ovviamente non si può concludere un ciclo su questo tema senza parlare anche dell'intelligenza umana che tutto sommato è l'originale ed è anche il modello dell'intelligenza artificiale ed è un argomento estremamente affascinante complesso e siccome l'intelligenza poi non è direttamente accessibile, insomma ci si manifesta attraverso diversi mezzi tra i quali i due aspetti più importanti che possiamo studiare in qualche misura anche scientificamente, per quanto è chiaro che il metodo scientifico in questo caso ovviamente ha qualche difficoltà in più perché è l'argomento un pochino più complesso che semplicemente studiare i protoni o la caduta dei corpi o altre cose del genere, però comunque si può applicare e i due aspetti principali sono da un lato il cervello che è la base fisica della mente e dall'altro il linguaggio che è la sua principale espressione, quindi per parlare di questi due fenomeni e della loro reciproca relazione tra di loro e con il fenomeno della mente abbiamo invitato due ospiti veramente d'eccezione e il primo a cui do adesso la parola è il professore Andrea Moro che potremmo dire le qualifiche accademiche ma al di là delle qualifiche accademiche la cosa veramente importante e il lavoro che ha fatto veramente delle scoperte molto affascinanti e anche molto sorprendenti cose che non ci si aspettava proprio che le cose stessero così e quindi è sempre molto bello e molto interessante quando la realtà ci sorprende, quindi senza farla ulteriormente lunga lascio la parola, dopo seguirà l'intervento di Mauro Ceroni che parla del rapporto tra la mente e il cervello e poi siamo d'accordo che loro fanno una relazione non molto lunga, una mezz'oretta testa, dopo interagiranno un po' tra di loro e dopo daremo ovviamente la parola anche a voi, quindi senza aspettare oltre lascio immediatamente la parola a Andrea Moro ringraziandolo tantissimo per essere venuto perché tra l'altro lui è veramente anche molto 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 impegnato e quindi è stato davvero insomma bello che abbia trovato il tempo per venire qui da noi. Grazie, a te la parola. Grazie, grazie a professor Musso, grazie a voi per essere qua. In realtà questo è un alibi perché le cose che faccio di cui parlava prima Paolo sono importanti e noiosissime, invece incontrare le persone per poter condividere innanzitutto quello che hai detto tu prima, cioè lo stupore per un pezzo di realtà, ci avete mai pensato in questo momento io semplicemente sputando fuori dell'aria dalla bocca e da un foro che ho in mezzo alla faccia posso cambiare le idee che avete nel cervello, posso farvi rappresentare quello che voglio, se dico un'enorme balena blu sul tetto di questa università voi non potete rifiutarvi di interpretare questa frase, questa è un'invasione nelle vostre teste, basterebbe questo per togliere il confine tra la scienza e la fantascienza, però siccome il mio compito qui invece è un altro, intanto facciamo partire dal tempo perché ho promesso mezz'oretta, io quello che voglio fare con voi è semplicemente di illustrarvi due casi inquadrandoli che vi fanno vedere quali sono le scoperte, c'è questa espressione americana molto bella che si dice what is at stake, cioè che cosa sta andando sul fuoco per capire che cosa c'è in ballo quando si parla di linguaggio e di uomini. Ora il primo punto è portarvi a vedere una sfida non so se forse, voi ci vedete vero? Si vede? Ok. La sfida di cui vi parlo è una sfida che parte da lontano, parte dall'ottocento quando si era scoperto che il linguaggio dipende dal cervello, guardate non è così evidente che il linguaggio dipende dal cervello, il grande Aristotele per esempio pensava che il cervello fosse il radiatore del corpo, serviva per raffreddare il sangue, perché non è così evidente che il controllo del nostro linguaggio venga da quell'organo, per esempio il cuore quando siamo emozionati batte più forte, noi abbiamo il cuore in gola, addirittura questa cardiocentricità della psicologia si riflette anche nel lessico delle lingue moderne, sapete che in inglese dire che si sa qualcosa a memoria si dice I know it by heart, ora non è che siano questi grandi romanticoni inglesi, evidente che il riferimento al cuore era dovuto al fatto che quello doveva essere il patrimonio e l'archivio della memoria, dunque questo si sa e si sa anche una cosa in più, che non solo il linguaggio dipende dal cervello ma dipende da una zona del cervello particolare, questo è uno dei cervelli più famosi del mondo, il cervello di un uomo che nell'ottocento si è presentato all'ospedale parigino, si chiamava Monsieur Le Bourgne e aveva perduto tutto il dizionario, cioè riusciva ancora a vestirsi uscire per la strada, girare, gesticolava, usava i muscoli della faccia per esprimersi ma aveva una sola parola TAN, l'hanno ricoverato, gli hanno dato anche un soprannome, si vede che la sanità funzionava in quel modo lì loro non avevano problemi, l'hanno portato all'interno dell'ospedale di Bissetra, a un certo punto è iniziata un'emiparesi della parte destra del corpo, sfortunatamente Tantan muore e il dottore che fa l'autopsia scopre questo che chiamo un rammollimento dei tessuti, questo cervello che è il cervello di Tantan il dottore si chiamava Broca e con questa scoperta si avvia questo grande percorso all'interno della neuropsicologia moderna dove si riesce a trovare una localizzazione specifica all'interno del cervello di una funzione cognitiva, ma la sfida quindi non è tanto chiedersi se il linguaggio dipende dal cervello la sfida è se anche i tipi di regole che io sto utilizzando e che voi state decifrando in questo momento dipendono sempre dal cervello. Ora, di che regole io parli non è del tutto evidente perché quando io sto parlando con voi io sto mettendo in gioco una serie di regole che tutti noi abbiamo più o meno imparato a scuola in capitoli diversi, ci ricordiamo quando per esempio abbiamo imparato non tanto l'italiano perché l'italiano viene da sé essendo noi italiani, ma immaginiamo quando abbiamo imparato l'inglese, abbiamo imparato la fonologia dell'inglese, il lessico dell'inglese, la semantica dell'inglese e poi la combinazione delle parole dell'inglese per fare una frase, cioè la sintassi dell'inglese. Ora, perché la sintassi è così importante? Perché la sintassi è in un certo senso l'impronta digitale di tutti gli esseri umani. Questa cosa era già stata capita probabilmente da tutte le persone intelligenti mai vissute, certamente da Galilei, certamente da Humboldt che a un certo punto dice che il linguaggio umano è un uso infinito di mezzi finiti, i mezzi finiti sono le parole e l'uso infinito sono le frasi. Io posso fare frasi lunghe quanto voglio, come i numeri e questa consonanza tra numeri e frasi non è casuale e non so quanti di voi da piccoli giocavano a conoscere il numero più lungo, qualche nevrotico tra voi ci sarà e quindi si saranno anche accorti nel senso di frustrazione a capire che in realtà non ti fermavi mai, potevi sempre andare oltre. Poi chi faceva questo gioco magari è diventato anche linguista quindi. La cosa interessante è che questa capacità di ricombinare degli elementi finiti è davvero l'elemento strutturale che caratterizza il codice di comunicazione umana rispetto a tutti gli altri animali. Questa cosa qui in realtà è stata espressa in modo molto elegante da Steve Anderson che è stato presidente della società americana di linguistica e dice i sistemi di comunicazione di tutti gli altri animali si basano su un numero limitato e fisso di insieme di messaggi discreti, sui pacchetti di informazione. Per dirla in modo brutale è come dire che noi esseri ubani abbiamo dizionari di parole e li combiniamo e gli animali è come se avessero dizionari di frasi fatte, hanno solo frasi fatte, non possono spezzettarle e ricombinarle. Questa cosa in realtà se ci pensate era molto nota già ai tempi di Cartesio perché vi ho fatto vedere queste tre immagini che sintetizzano tre situazioni molto anzi due situazioni in realtà che sono separate da un oiato temporale importante. Avete il discorso sul metodo di Cartesio, Cartesio dice esplicitamente non c'è nessun essere umano che non sia capace di comporre delle parole e con questa composizione di rendere esplicito il suo pensiero ma non c'è nessun animale che messo una condizione simile a quella dell'uomo possa fare allo stesso modo. In epoca moderna dove non basta una declaratoria, un manifesto culturale ma si deve passare attraverso un esperimento, è stato fatto un esperimento elegantissimo, molto bello che è stato fatto alla Columbia University negli anni 70 da un gruppo di persone tra il quale Laura Ann Petito con la quale ha avuto la fortuna di lavorare per un anno a San Raffaele negli anni 90, lei non è italiana, il cognome tradisce l'origine italiana ma è canadese e hanno fatto una cosa molto interessante che se qualcuno ha guardato i giornali in questi giorni non si capisce perché? Ma è stata ribadita in qualche modo, c'era un problema, si diceva guardate gli altri animali non parlano come noi perché non hanno la bocca e la gola giusti, perché non riescono a costruire parole così elaborate, a modulare il suono nel modo in cui lo facciamo noi. Allora che cosa hanno fatto queste persone? Si sono chiuse in casa con un cucciolo di scimpanze e hanno iniziato a parlargli con la lingua dei segni perché loro sapevano e si era certi ormai negli anni 90 che la lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti, a tutte le componenti tipiche delle grammatiche, tant'è vero che ci sono lingue diverse a seconda del paese, anzi in Italia la lingua dei segni di Roma e di Milano sono due dialetti un pochino diversi, se voi andate in Canada a fare una conferenza, i canadesi sono ricchissimi, avreste non solo l'interprete dall'inglese al francese ma due interpreti per la lingua dei segni in francese e quella inglese. Morale della favola scoprono che questo scimpanzé riesce a imparare le parole, ne impara 128, 128 parole sono tante, 128 parole sono all'inizio un innesco notevole, sapessi io 128 parole di giapponese non avrei sbagliato città come mi è capitato andando a Tokyo prendendo un treno verso sud mentre dovevo andare a nord, è una situazione in cui si può comunicare molto. Bene, la cosa interessante è che con queste 120 parole lo scimpanzé che tra l'altro si chiamava Nim Chimpsky tanto per essere simpatici e ricordare il nome del fondatore della disciplina è paragonabile a un bambino, ma poi un bambino cosa fa di queste parole? Le mette insieme in un ordine diverso e con l'ordine diverso genera pensieri diversi. Questo scimpanzé ha prodotto 19.000 frasi e di queste 19.000 frasi fatte di vari segni non una il significato era diverso per la diversità dell'ordine in cui venivano presentati, quindi lo scimpanzé non aveva sintassi. Allora il primo punto importante è che guardando le creature della terra che comunicano tra di loro, dalle lucertole, alle scrofe, a noi, a tutti gli animali, esiste per tutti la capacità di comunicare, ma solo noi abbiamo questa capacità di ricombinare pochi segni generandole tanti infiniti. Naturalmente nel momento immediato in cui uno si chiede da dove viene quest'origine, chi controlla queste regole, il cervello, rimane un problema fondamentale, cioè che il linguaggio sembra essere una specie di babele in cui tutto vale, in cui qualsiasi combinazione è possibile. La citazione che vedete che è comparsa in questo momento di Noam Chomsky che è linguista che negli anni 50 ha fondato questo nuovo modo di vedere il linguaggio in modi matematici rigorosi, giustamente quando prima mi introduceva l'argomento di oggi, il professor Musso diceva la questione del tema metodologico, sarei stato quasi tentato da boccare e rinunciare alle slide che avevo preparato e seguire la tua provocazione sul metodo che forse è la più importante, ma insomma visto che avevo voglia di comunicarvi le scoperte parlerò di quelle. Dicevo la questione metodologica è cambiata con Chomsky perché lui arriva a dire che il linguaggio è un insieme di valori specifici di parametri in un sistema invariante di principi. In questo senso la linguistica aderisce al più omogeneo manifesto metodologico della scienza contemporanea che io ho trovato rappresentato in questo disegno a mano di Mendeleev che è la tavola periodica degli erimenti, cioè oggetti diversi, l'elio, il piombo, l'oro, se tu li guardi, sono completamente, sembrano qualitativamente diversi e poi scopri essere soltanto una variazione di quantità e di ordine di tre elementi identici, protoni, neutroni e elettroni. Anzi, i neutroni li puoi anche togliere perché se non parli di isotopi o isotopi a seconda delle due dizioni che preferite puoi farne a meno. Ecco, il sogno è quello di trovare una tavola periodica delle lingue umane, non ce l'abbiamo fatta, questo mai tradisce una preoccupazione personale, non ce l'abbiamo ancora fatta, diciamo, però è evidente che il metodo è sulla buona strada. Ora, quello che però vi dicevo rimane vero. Noi sappiamo che il linguaggio dipende dal cervello, siamo di fronte a questa situazione straordinaria in cui noi esseri umani riusciamo a influenzare e comunicare gli altri con un repertorio ridotto di parole, un repertorio infinito di frasi, ma come facciamo a mettere insieme quello che si sa del cervello rispetto a quello che si sa del linguaggio? Chi parlerà dopo di me? Il professor Mauro Ceroni, oltre a essere uno scienziato illustro in questo campo, è anche un amico. Noi abbiamo passato tanto tempo a confrontare la provenienza delle nostre formazioni. Io sono di formazione un linguista, teorico e lui è in formazione un medico. Tutti e due abbiamo messo l'attenzione su un oggetto che non è né mio né suo, per fortuna l'Accademia non compra gli oggetti del mondo, è un oggetto comune che avete sotto gli occhi, anzi tra le orecchie, tutti voi che ha il linguaggio e lo vediamo da due prospettive opposte. Il sogno è di, non dico di unificare perché non avrebbe neanche senso, ma di mettere in relazione queste due dimensioni, queste due prospettive e vedere cosa si può dire di più. Per quanto riguarda il cervello c'è una distinzione metodologica fondamentale, ci sono due vie per accedere al cervello. Voi potete, almeno due, potete studiare dove i neuroni si attivano o che cosa comunicano tra di loro. Questi sono i due, tutti diamo per scontato di sapere che il cervello è una macchina straordinaria di cui elementi minimi sono i neuroni. Non mi inoltro in questa questione perché mi farebbe parlare altro che per mezz'ora entusiasmandomi sulle cose che si possono dire, ma poi le potrebbe dire meglio Mauro e qui mi vergognerei. E allora vi faccio vedere come si possono percorrere queste due vie dal punto di vista del linguista che incontra la neurologia e la neuropsicologia. Iniziamo con la via del dove che ho chiamato i confini di Babele. Perché i confini? Perché una delle scoperte più importanti della linguistica del Novecento è stata quella che non tutte le regole concepibili sono realizzate nelle lingue del mondo. Cioè noi abbiamo un'assenza che ci sfida. Vedete, gli scienziati sono molto più sfidati dalle assenze che dalle presenze perché ti devi chiedere come mai manca una cosa che è concepibile, quali sono le restrizioni che la rendono impossibile, data la realtà. E in questo caso appunto la domanda è come mai certi tipi di regole non si realizzano in nessuna lingua del mondo. Ora, ci sono due strade possibili per me, come per qualunque divulgatore. Una è che voi vi fidiate e che voi diciate va bene, d'accordo, ammettiamo che non esistano regole impossibili. Siccome io sono un appassionato di fisica e quando vado a una conferenza di fisica e mi dicono così mi arrabbio, ho pensato di costruire un percorso brevissimo per farvi vedere in realtà dove sta il cuore delle regole umane e come si fa a costruire una regola impossibile. Quindi mi permettete questa specie di intermezzo che vi vuole dare una ricetta su come si costruiscono regole impossibili. E iniziamo così. Vedete questa frase? Andrea ama Bach e Andrea viva New York. Questo non è il modo naturale per esprimere questa frase. Perché? Perché come dicevano nella grammatica di Paul Weill nel 600, uno dei testi di linguistica più famosi di sempre, stampato e utilizzato per tutto l'Ottocento, gli esseri umani tendono a risparmiare e ripetere due volte lo stesso soggetto, evidentemente salvo doverlo fare per forza ribadendolo, non è un risparmio. Allora il modo naturale per dire questa frase è per esempio dire Andrea chiama Bach, vive a New York, dove risparmiate un soggetto. Bene, ora quello che voi vedete in questa diapositiva è già la rappresentazione del cuore pulsante del sistema di codificazione umano. Voi avete in questo caso una frase e un'altra frase congiunte da una congiunzione. nel caso sotto voi avete una frase che invece è racchiusa, inscatolata in un'altra frase. Questo procedimento di inscatolamento è la struttura di tutte le lingue umane. È molto facile costruire esempi di questo tipo. Per esempio potrei dire Maria corre, Pietro dice che Maria corre, Francesca suppone che Pietro dica che Maria corre, Giovanni dice che Francesco suppone che Pietro dica che Maria corre e poi posso mettere frasi relative. Insomma io posso sempre espandere del materiale quanto voglio. Quindi per esempio una frase come Gianni corre, posso mettere del materiale in mezzo e dire Gianni che ieri ho visto alla stazione corre. Gianni che mia sorella ha detto che ieri ho visto la stazione corre. Vedete che Gianni e Corre si allontanano. Si allontanano tanto quanto regge la mia memoria ovviamente. non ci può stare in mezzo a un discorso troppo lungo perché altrimenti mi dimentico tempo che arrivo a correre di quale fosse soggetto. Però questa è la natura di tutte le lingue del mondo e dunque da qui si vince un principio generale straordinario che dice nessuna regola può basarsi sulla posizione di una parola nelle lingue del mondo. Ora che cosa abbiamo fatto noi? Siamo andati a prendere, vi faccio vedere un esempio molto semplice, cioè un esempio, questo è un esempio di quello che dovrebbe succedere alla vostra testa con la prossima regola grammaticale. Se dico l'uomo correva, la frase negativa è l'uomo non correva. Ma se io vi dicessi che la regola per fare la negazione in italiano è mettere non come terza parola voi ridereste perché se io vi dico l'uomo che vedi correva la frase negativa non è l'uomo non che vedi correva, ma è l'uomo che vedi non correva. Vedete il non slitta. E allora la regola fondamentale è proprio questa, cioè non esistono regole che si basano sulla posizione fissa di una parola in una sequenza. Non ci sono perché? Perché voi potete sempre espandere una frase inserendo del materiale. Quindi dovete avere questa specie di fisarmonica mentale che vi permette di inserire del materiale dove volete a secondo di quanto è grande per esempio il soggetto che precede. Perché le cose stanno così? Beh, una spiegazione potrebbe essere molto semplice questa, questa è una mappamondo a testa in giù, è dire la prima lingua che gli uomini hanno parlato abbondando centomila anni fa, probabilmente l'adattazione è più bassa, questa è una diapositiva che ho preso a New York non più di cinque anni fa e ora dava come 170-130 la comparsa di noi esseri umani, adesso siamo già a 100 e forse più bassa la datazione. Ma comunque se questa è la datazione, se questa è la situazione potrebbe essere benissimo che la prima lingua non conteneva regole rigide e che quindi tutte le altre hanno ereditato la struttura da quella precedente. L'altra invece è che è proprio il cervello che è fatto così, quindi la comune origine potrebbe spiegare l'esistenza dei confini di Babele ma un esperimento potrebbe essere di rimente. Quale esperimento? E qui possiamo sfruttare l'ingegneria associata alla medicina che ha dato all'essere umano la possibilità di vedere in vivo il cervello, qualcosa che il dottor Broca avrebbe solo sognato di notte ma non sarebbe mai riuscito a vedere, ha dovuto aspettare di aprire un paziente morto, capite che vuoi studiare il linguaggio di un paziente morto a meno di non avere un medium di istituto che vi permetta poi di interagire in qualche modo telepatico o parapsicologico non funziona. Allora noi cosa abbiamo fatto? Io sono riuscito a convincere tre gruppi a fare un esperimento di questo tipo. Capite qual è l'esperimento? Io ho detto questo. Se quell'area di Broca è un'area che viene coinvolta nel linguaggio la domanda che noi possiamo fare è questa. Cosa succede nel momento in cui io insegno a persone come voi una lingua impossibile? Cioè una lingua che in realtà contiene quelle regole fisse come il non nella posizione rigida della frase. Due cose potevano succedere. O l'area di Broca ignora il fatto che siano impossibili e comunque si attiva e allora non avrei potuto dire nulla oppure è. E quello che vi faccio vedere è questo oppure. Siamo andati a prendere, io di questi esperimenti ve ne descrivo uno solo, quello che è uscito un po' di anni fa. Tra l'altro il primo autore era una studentessa nostra che si chiama Musso, che adesso scopriamo essere in realtà, c'è un retroscena interessante. Abbiamo preso dei parlanti nativi del tedesco monolingui, strettamente monolingui, quindi questi venivano dalla Repubblica Democratica. Sapete le dittature è la prima cosa che fanno quando vogliono eliminare l'individualità e ti proibiscono di parlare lingue differenti, c'è la lingua di Stato e lì potevano solo parlare tedesco. Siamo andati da una generazione di parlanti che erano stati soltanto esposti al tedesco e gli abbiamo insegnato l'italiano e il giapponese senza dirgli che tra le regole dell'italiano e del giapponese, ovviamente un micro italiano e un micro giapponese, perché l'abbiamo fatto in pochi mesi, gli avevamo nascosto delle regole impossibili e poi siamo andati a confrontare due cose. Da una parte volevamo vedere quanto bravi erano a usare queste regole, quindi abbiamo fatto dei compiti in classe e abbiamo visto che più passava il tempo e più le persone diventavano brave. Se io vi insegnasse questa regola e dicessi compilate questo foglio, voi oggi, voi domani, voi dopodomani diventate sempre più bravi. E poi siamo andati a vedere, misurando nel cervello quello che accadeva nella zona di Broca, quanto aumentava il flusso ematico. Il flusso ematico lo prendevamo come un segno indiretto di attività di quella zona. Quindi avevamo due dati, la bravura progressiva e il coinvolgimento di quest'area. Il primo test è stato di andare a vedere come queste due grandezze si muovevano rispetto alle regole possibili. E guardate cosa succedeva. Questo è il grafico in sintesi delle regole possibili. Più divento bravo, più l'area di Broca richiama sangue, quindi macina dati, si attiva. E per le regole impossibili è avvenuto quello che noi speravamo e che però non ci sembrava vero. Cioè più divento bravo con le regole impossibili e meno l'area di Broca risulta coinvolta. Quindi in un certo senso il cervello è un linguista più bravo di noi linguisti che sa già prima che i confini di Babele non sono artificiali e convenzionali, ma sono in qualche modo l'espressione della nostra architettura biologica, neurobiologica in questo caso. Non c'è un utilizzo convenzionale, del tutto convenzionale delle regole grammaticali. Il rosso nei semafori è convenzionale. Noi potremmo immaginare dei semafori in cui al posto del rosso funzioni il blu. Forse si vede meno. Allora in questo senso dite beh sei un po' cretino se usi un colore scuro. Però potremmo immaginarne un altro. Potremmo mettere, anzi potremmo invertire il giallo e il rosso. Funzionerebbero lo stesso modo. Il problema è che qual è una convenzione? Il fatto di non mettere il non in una certa posizione, quindi il fatto di avere l'inscatolamento, non può essere convenzionale semplicemente perché io non posso per convenzione attivare o disattivare un circuito. Dunque voi vedete che in qualche modo andare a esplorare delle regole grammaticali nel cervello ci fa capire che il cervello, che le regole del linguaggio, quell'impronta digitale dell'essere umano è un'espressione della nostra struttura neurobiologica. Non vi nascondo che l'implicazione è evidente. Se il nostro linguaggio è l'unico tra i linguaggi animali che usa questo metodo e se questo è ancorato alla nostra biologia ci deve essere qualcosa di unico nella nostra struttura biologica. Però non fermiamoci qui. Vi faccio vedere il secondo esperimento, a grandi linee ovviamente, che in fondo è una sfida ancora maggiore. Io vi ho fatto vedere dove si attivano i neuroni. Sì, ma cosa si dicono i neuroni l'un l'altro? Beh, è evidente che questa domanda è una domanda troppo ambiziosa perché possa essere risposta nel giro di pochi anni e non so neanche se gli esseri umani riusciranno a trovare il codice per decodificare completamente il sistema di comunicazione dei neuroni. Però una cosa l'abbiamo fatta. In questo caso, mentre il primo esperimento che vi ho descritto l'ho fatto con un gruppo di ricerca ad Hamburgo e Iena e poi l'ho replicato in due modi diversi al San Raffaele e a Zurigo e in particolare con Stefano Cappa, Marco Tettamanti, poi Cristina Musso che appunto lavorava a Iena. Questo secondo lavoro invece l'ho fatto a Pavia con un neurochirurgo che si chiama Lorenzo Magrassi e un ingegnere elettronico, si capirà perché che si chiama Valerio Annovazzi. La domanda che ci siamo posti è questa. Di cosa è fatto il linguaggio? Se io vi chiedessi questo, guardate, questa è la tipica domanda che faccio per innescare la lezione ai ragazzi del primo anno. Di cosa è fatto il linguaggio? Allora i più sofisticati, i morfemi, i fonemi. E io insisto, dico no, no, di cosa è fatto il linguaggio? Come se dicessi di cosa è fatto questo tavolo. E allora la risposta dipende. Il linguaggio ha un confine, fuori di me e dentro di me. Fuori di me è fatto di onde d'aria. Se io all'improvviso smettessi di produrre onde d'aria e bloccando l'aria che è c'è fuori, voi non capireste più. Vero? Voi lo decifrate perché siete bravi e guardate le labbra. Però se io smetto di produrre aria, adesso chi guarderà il film altro, immaginarà, ci proverà ad alzare. Forse si porterà a tagliare questo punto, posso giocare ancora ore e sfogarmi in questo modo, ma insomma magari c'è qualcosa di meglio da fare. Quindi fuori è aria e dentro? Nel cervello non c'è aria. I neuroni, tra le tante cose che sfruttano, comunicano tra di loro, sfruttano l'elettricità. L'elettricità si muove secondo delle onde. Quindi noi abbiamo onde fuori e onde dentro. Onde elettriche fuori e onde d'aria dentro. Questa è la sostanza di cui è fatto il linguaggio. Allora la domanda che noi ci siamo posti è stata la domanda più banale del mondo, se volete. Ed è stata questa. Ma se io, anzi ve la faccio vedere così, perché ve la faccio vedere facendo vedere questo signore qua. Questo signore qui è Sant'Ambrogio. Ma io non lo faccio solo per invocare un santo e cercare che mi venga l'esperimento. Lo faccio perché voglio far vedere una frase riferita a Sant'Ambrogio di un altro santo che dice, quando Ambrogio leggeva i suoi occhi percorrevano la pagina e il suo cuore ne carpiva il significato, ma la sua voce era silente e la sua lingua ferma. È quella che i moderni chiamano endofasia. E questo ma la dice lunga. La sorpresa del silenzio. Cioè noi esseri umani possiamo tenere il linguaggio dentro di noi, senza necessariamente sputarlo fuori dalla bocca. Allora capite anche voi che la domanda diventa interessante, perché se io mi chiedo quanto si assomigliano le onde fuori e le onde dentro. E l'esperimento che abbiamo fatto è stato molto semplice. Abbiamo usato una tecnica completamente diversa rispetto a quella utilizzata. Cosa è successo? Non lo so. Ci siamo? È tornato? È tornato? È tornato Sant'Ambrogio. Benissimo. È un vocato santo giusto. Quello che voglio farvi vedere è semplicemente un esperimento semplicissimo. Noi abbiamo provato a far pronunciare... dunque la tecnica era molto diversa, vi dicevo. Invece che utilizzare tecniche di neuroimmagine abbiamo sfruttato un'occasione che il neurochirurgo spesso utilizza per facilitare il recupero del paziente. In certi pazienti dovete esportare un tumore nella scatola cranica, correte il rischio tagliando, incidendo la superficie della corteccia di tagliare una via di transito di informazione. Allora una tecnica che è stata elaborata in tempi abbastanza recenti è quella di svegliare il paziente una volta che la scatola cranica è aperta, di toccare la superficie del cervello in qualche modo con una punta elettrificata a un amperaggio bassissimo ed interferire con l'attività elettrica locale. Se il paziente toccando quel punto smette di eseguire il compito sapete che non potete tagliare lì ma contemporaneamente potete misurare l'attività elettrica di quel punto e quindi abbiamo fatto un esperimento semplicissimo. Abbiamo chiesto ai pazienti di leggere a voce alta delle frasi quindi leggevano oggi c'era il bel sole e poi gli abbiamo detto di leggere nella mente. Prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato le onde della voce con le onde interne e poi semplicemente la lettura con le onde interne e abbiamo scoperto una cosa che ci ha colpito. Questa anche se è un grafico matematico molto complicato la matematica una volta trasformata in grafici può parlare da sola se voi vedete ha un andamento simile in qualche modo a campana e riguarda la lettura a voce alta e la lettura silente. Il risultato qual è stato? Che anche in assenza di suoni le onde elettriche dei neuroni riproducono le onde acustiche. Ora questo cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo questo l'assalto vuol dire che in qualche modo potenzialmente noi possiamo accedere al linguaggio direttamente dal cervello senza che uno passi attraverso la bocca. Veramente questo il confine tra scienza e fantascienza è ridotto perché in questo caso noi potete capire che possiamo avere la fortuna di creare dispositivi per aiutare alcune forme di afasia. Certamente ti saranno capitati dei pazienti che hanno una afasia periferica che è dovuta soltanto al fatto che non riescono più a controllare la muscolatura della fonazione ma il loro pensiero interiore Stephen Hawking per esempio il fisico di Cambridge ha la possibilità di pensare perfettamente in modo fluente però sapete devono comunicarlo tramite canali. Tu potresti accedere direttamente al contenuto fonico però sapete potreste anche capire informazioni che non si vogliono confessare ma si pensano. Insomma in certo qual modo noi ci troviamo di fronte sempre al solito problema. Un coltello voi lo potete usare per tagliare il pane o per affettare vostro fratello. Dipende, dipende, è una scelta etica che però non deve in nessun modo influenzare o fermare la vostra... questo qui si sta ribellando al mio comando e forse perché vedete si è spappolata l'immagine, si è fermata su quello. Non so perché. Va bene perché vuol dire forse che ha capito che è ora che io chiuda e quindi quello che volevo dirvi all'interno di questa cavalcata sul linguaggio è che in qualche modo noi ci troviamo di fronte... vedete questa immagine che ho trovato se riesco a farla riapparire... è un po' la situazione in cui ci troviamo noi. Pensate, io per dare idea della sensazione che provo io quando inizio a... quando mi trovo di fronte a quello che si sa sul linguaggio sono riuscito a trovare un quadro. Un quadro, per caso, di un pittore che ne ha dipinti solo due nella sua vita e sono lo stesso soggetto, soltanto che uno ha una forma quadrata e l'altro una forma circolare, sta agli uffizi. È un quadro di un pittore barocco che è vissuto a Innsbruck, si chiama Johannes Gump e questo è il quadro, molto scuro però è straordinariamente icastico rispetto a quello che voglio dirvi. È un pittore che di spalle dipinge se stesso che dipinge un autoritratto e questo è quello che a me sembra essere la nostra posizione rispetto al linguaggio. Noi sappiamo il linguaggio cosa fa fuori, riusciamo a riflettere, in qualche modo ricostruire e passare a dare una rappresentazione. Però la cosa più importante del linguaggio, che è l'uso creativo del linguaggio, che passa attraverso la coscienza, che sarà il grande tema di cui parlerà il professor Ceroni dopo, ci sfugge completamente. Ecco, questa è la situazione. Se e quando l'autore si volterà verso di noi e noi riusciremo a guardare in faccia, questo sarà ancora a dimostrare. Ah, però non fatemi dimenticare che è quasi Natale, se non sapete cosa regalare. Grazie a tutti. Bene, grazie mille. Intanto allora invito a salire qua sul palco il nostro altro relatore, Mauro Ceroni, che è appunto neurologo e ci parlerà della questione della mente, cervello, coscienza. Ringrazio chiaramente molto anche lui e gli do immediatamente la parola senza porto tempo in mezzo. Allora, visto che c'è un attimo di intervallo tecnico, ne approfitto per dire anche a chi fosse arrivato dopo, visto che in effetti alcuni sono arrivati già dopo l'inizio, che questo è l'ultimo incontro per quest'anno, ma l'anno prossimo riprendiamo. Abbiamo già deciso il tema, il tema saranno i viaggi spaziali e ci saranno sempre alcuni incontri sul lato fantascienza, alcuni e quindi per quanto riguarda il lato scientifico ho già detto che abbiamo sicuramente, avremo con noi Claudio Maccone, direttore tecnico dell'Accademia Internazionale di Astronautica, che parlerà dell'astronautica dei secoli futuri, cioè di alcune missioni che sono già allo studio, ma che non abbiamo ancora la tecnologia per realizzarle, qualcuno l'ha anche ideata lui stesso. Poi ci saranno anche altre cose che ho già in mente, ma non sono ancora con certezza. Visto che ci siamo, posso... Ci siamo? Sì, sì. Allora posso lasciare la parola a Mauro e a te? Ciao. Grazie ovviamente per essere con noi. Allora, come Andrea ha già detto, io faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il mio punto di vista non è tanto quello neuroscientifico, ma mi sono avvicinato a questo campo da neurologo. E quindi sono portato a cercare di cogliere in sintesi le cose. Alla fine io ho davanti un malato e devo considerarlo da tutti i punti di vista. Il termine intelligenza è stato usato in questa conferenza, in questa serie di conferenze, logicamente, perché è legato poi all'intelligenza artificiale, alla robotica. Però se parliamo di intelligenza umana, l'intelligenza si colloca all'interno della totalità del soggetto umano e c'è un'altra parola che è più espressiva, più sintetica, che è la parola coscienza. E appunto io svolgerò questo tentativo di rapidamente, questo mi spaventa un po', il far capire un attimo quale può essere il rapporto tra coscienza e cervello. Abbiamo visto, Andrea ce l'ha fatto vedere molto bene, che le due cose sono assolutamente inscindibili. Se volete c'è un'altra condizione neurologica che è impressionante ed è quando il centro che viene colpito è il centro della comprensione del linguaggio. Quando questo accade per un ictus, per esempio, il paziente diventa completamente demente. Tanto il linguaggio è legato indissolubilmente al pensiero. Comunque, appunto, chiediamoci che cos'è la coscienza dell'uomo. Il termine coscienza lo vedremo dopo, faremo una breve rassegna storica. Ha un punto di nascita con Cartesio, prima tutta la discussione era tra anima e corpo. E definire che cos'è la coscienza è molto più difficile rispetto al cervello. Adesso nel cervello possiamo disegnare delle mappe, sapere le funzioni. Che cosa sia la coscienza possiamo farlo di solito con frasi che sono delle tautologie. La coscienza è quel fenomeno capacità per cui noi stessi e le cose sono presenti a noi stessi. Cioè noi siamo in grado di renderci conto di noi stessi e delle cose. C'è un'esperienza quotidiana che facciamo, che però è illustrativa, ci fa capire come l'esperienza è più ricca dalle definizioni che noi abbiamo. Il sonno. Nel sonno la nostra coscienza non c'è, eppure le cose molto probabilmente noi stessi continuiamo ad esserci, ma è come se non ci fossero per noi, perché non c'è la coscienza. Della coscienza hanno sempre parlato tutti i letterati, la filosofia. È relativamente recente un approccio alla coscienza di altro genere. Qual è stato il primo approccio alternativo a quello culturale, filosofico? È stata l'introduzione della medicina occidentale, l'introduzione del metodo clinico. Lo dobbiamo a un grande italiano, a Morgani, a Gian Battista Morgani, che era il professore di anatomia di Padova, che scrisse questo che è la fondazione della medicina occidentale. De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. Cioè, a un certo punto si capisce anche perché è progredita la biologia, eccetera, che per capire le malattie non bisogna più pensarle nelle interazioni tra l'ambiente e tutti i fattori costitutivi dell'organismo, ma bisogna andare a studiare gli organi, andare col microscopio a vedere cose sono le alterazioni. Questo ha stabilito una nuova medicina, la medicina occidentale che ha successo, che tutti noi sappiamo, anche presso le altre culture che avevano sviluppato delle enormi medicine come quella cinese, proprio perché interpreta meglio la realtà della malattia e quindi è in grado di comprendere meglio che cosa succede, come andrà a finire, che cosa si può fare. Il fondatore della neurologia è Jean-Martin Charcot a Parigi, vive negli anni di Broca. Questi sono l'Atlante di Cruveillet che mostrava le lesioni della sclerosi multipla. Questo è un quadro famoso dove Charcot, verso la fine della sua carriera, si è occupato anche di isteria. A una di queste sue lezioni partecipa Freud, che poi capisce che probabilmente bisogna cambiare strada per allora, le conoscenze del cervello erano veramente troppo poche per interpretare la ricchezza dei disturbi psicologici. Charcot fonda la neurologia scoprendo e definendo la sclerosi laterale miotrofica, la malattia dei motoneuroni. E lui capisce come era fatto il cervello prima di sapere come era fatto dal punto di vista microscopico, perché non aveva ancora fatto la grande scoperta Golgi. Golgi è l'unico premio Nobel per neuroscienze italiano, lo prende nel 1906 e lo prende per queste immagini. Questa è un'immagine originaria, un vetrino originario di Golgi. Voi dovete immaginare che nel cucinino dell'appartamentino che aveva di fronte all'ospedale di Bettegrasso, dove era diventato assistente, fa una colorazione preparato di una fettina di cervelletto e scopre come erano fatti le cellule del Purchini, che sono delle cellule. Pensate, nessun uomo prima di lui aveva potuto scoprire quello. Gli stologi che usavano, avevano detettato tutti gli altri tessuti, dicevano che colorando il cervello con i metodi tradizionali si vedevano i nuclei, si vedevano i corpi cellulari e poi c'era la grande nebbia. Ecco, la grande nebbia era fatta di questo. Questo è un disegno e questo ha dato luogo a tutto lo sviluppo poi dello studio delle malattie, di come è fatto il cervello, di come funziona. Si sono scoperte, adesso questa immagine è molto interessante perché è una previsione fatta su come è fatto il cervello e cioè che possono esistere delle lesioni che producono una interruzione di comunicazione di aree e questo produce il disturbo. Se uno ha un ictus che gli crea un'ischemia nel lobo cipitale sinistro, per cui io vedo soltanto con gli emicampi di sinistra che mandano le informazioni al lobo cipitale di destra, ma l'ischemia prende dentro anche questa parte del corpo calloso e quindi impedisce che questa visione che io ho raggiunga il centro per l'interpretazione delle parole. Io non posso più leggere perché ho avuto una lesione di questa connessione. La scoperta di quale sia la sede della coscienza come vigilanza è molto più tardiva, ci vuole, avviene per caso, la fa un altro italiano Moruzzi, lavorando negli Stati Uniti, era interessato a vedere qual era il collegamento funzionale tra il cervelletto e il cervello, la corteccia cerebrale e aveva capito che c'erano dei nuclei nel tronco encefalico che sicuramente erano una stazione di passaggio di queste connessioni. Mette un elettrodo stimolante in questa sostanza reticolare attivatrice, per fortuna registra come metodo l'elettroencefalogramma dalla corteccia e scopre che la stimolazione desincronizza il tracciato, cioè il tracciato diventa da un tracciato a onde un tracciato tipico della veglia. La veglia, lo stato di veglia, quello che poi permette tutta la funzione del nostro cervello, tutte le nostre funzioni superiori, dipende da questa attivazione, da queste vie. Ma quando avviene un cambiamento, un nuovo approccio culturale, scientifico, tentativamente a questi problemi? Avviene all'inizio del Novecento, col bicheviorismo. Il bicheviorismo, il comportamentismo, ha questa preoccupazione metodologica. Non possiamo basarci sui racconti che i soggetti ci fanno, perché questo è soggettivo, non è scientifico. Allora c'è un unico aspetto dell'uomo che è oggettivabile, ed è il comportamento. Se noi osserviamo il comportamento e ne scopriamo le leggi, arriveremo a poter prevedere come si comporta l'uomo. Chi ha smontato questo sono i linguisti, a Chomsky, che ha citato, quando ha fatto la critica del libro di Skinner sul verbal behavior, dove si tentava di dimostrare che il linguaggio è un comportamento appreso per tentativi e, come abbiamo già sentito prima, la cosa non funziona assolutamente così. Poi avviene una scoperta fondamentale, che è quella dentro cui noi siamo, che determina la nostra mentalità, la scoperta del computer. La scoperta del computer è sembrato dare finalmente un'immagine, una possibilità di interpretazione della coscienza del cervello. Che cos'è il cervello? Il cervello è un computer, è un hardware particolarmente complesso, più complesso di tutti quelli che abbiamo costruito finora, che utilizza una quantità di energia bassissima, molto minore di quella che usiamo noi, e che è in grado di fare una quantità di cose spaventosa. E che cos'è la mente, la coscienza? La mente e la coscienza è il software che agisce, che viene fatto correre sull'hardware e produce l'intelligenza e tutto quello che conosciamo. C'è un bellissimo libro scritto nel 1972, dieci anni dopo la fondazione della rivista Cognition, che determina l'inizio del cognitivismo, di quella grossa branca neuroscientifica dentro cui noi ancora siamo, fatto da Dreyfus, che è un filosofo fenomenologo americano, che si intitola What computers cannot do the limits of the artificial intelligence, e dove lui muove una critica radicale al tentativo di dire arriveremo a fare l'intelligenza come quella umana. Dice, la mente non procede da elementi atomici verso la totalità, ma cogliendo le parti nell'ambito di un tutto. Le note di una melodia hanno il loro valore in quanto sono percepite come parti di una serie melodica, e non viceversa, e lo stesso vale per gli elementi di una frase. L'intelligenza dell'uomo non è soltanto analitica e teoretica. La mente dell'uomo, l'intelligenza dell'uomo, ha una visione sintetica delle cose. E fa questa previsione, a mio avviso, che si sta avverando in maniera incredibile, il rischio non è l'avvento del computer superintelligente che ci sottometta tutti, ma di esseri umani sottosviluppati intellettualmente. Se noi riduciamo la capacità della nostra mente soltanto all'aspetto analitico e teoretico, poi rischiamo di perdere un grande aspetto di capacità cognitiva che ha l'uomo. Ciò che distingue gli uomini dai computer, per quanto progettati in modo intelligente, non è un'anima astratta, universale, immateriale, ma un corpo concreto, specifico, materiale. Perché, appunto come un altro dei concetti che lui dice, noi siamo immersi dentro il nostro mondo, siamo parte di questo mondo, nessuno di noi è concepibile se non come frutto di questa interazione con la propria famiglia, con la lingua che ha ricevuto, con tutto questo. E questo ci permette di interpretare le cose, perché noi siamo dentro questo. Il computer non è in situazione. L'intelligibilità e il comportamento intelligente devono essere riferiti al senso comune di ciò che noi siamo, il che se vogliamo evitare il regresso all'infinito è necessariamente conoscenza che non si può esplicitare. C'è qualcosa dentro di noi, dentro la nostra intelligenza, su cui si fonda la nostra capacità di conoscere, che non è riducibile a bit di informazione. Negli ultimi vent'anni, come sapete, siamo andati avanti, adesso c'è la neurofilosofia e poi la neurofilosofia pretende di stabilire la neuroetica, la neuroeconomia, la neuro... qual è l'idea? L'idea è basta studiare bene come funziona il cervello e noi capiremo l'integrità dell'esperienza umana. La psicologia si ridurrà a una pseudoscienza, perché sarà soppiantata dalla neurofisiologia. Appunto, da un certo punto di vista, basterà rilevare le onde e vedremo tutto. Una tale posizione codifica come fatto scontato e non discutibile che la conoscenza umana è solo quella di tipo analitico e teoretico, cioè l'esame analitico di tutte le parti e la sua interpretazione dentro una teoria interpretativa emessa dal soggetto della conoscenza. È vero che questo avviene nella conoscenza scientifica, ma poi occorre provare con l'esperimento la giustezza del processo, cioè occorre il confronto con la realtà. Quindi guardate che anche il metodo scientifico non può ridursi a analisi e teoria, perché alla fine poi dobbiamo andare a vedere quel che funziona. Allora, come si può affrontare in maniera ragionevole il problema della coscienza? Se noi ci poniamo, adesso stasera, che cos'è la coscienza dell'uomo? Che fenomeno è? Possiamo dare per scontato che è nient'altro che la funzione operata dal cervello, così come, io di solito uso dire per provocare, come il rene produce l'urina, così il cervello produce la coscienza. È sensato partire subito in questo modo? Penso di no. E propongo un altro tipo di partenza. Allora, innanzitutto voglio sgombrare il campo, sono neurologo, l'ha già detto anche Andrea che non è neurologo, ma ogni attività umana, ogni più piccola cosa, evento, fenomeno che avvenga in me necessariamente ha un correlato neurofisiologico. Cioè io, il mio io non è separabile dal mio corpo, la mia coscienza non è assolutamente separabile dal mio corpo, ogni più piccolo fenomeno che caratterizza me, nella mia totalità, sicuramente ha degli aspetti neurofisiologici sempre in atto. Questo deve essere una cosa assolutamente chiara. Dire questo però non vuol dire concludere immediatamente, come di solito tutti fanno, che allora è evidente. Quindi la coscienza è il prodotto del cervello. No, aspettate un attimo a precipitarvi in questa conclusione. Allora, innanzitutto, se io devo pormi il problema di che cos'è la coscienza, non posso evitare di pormi il problema della mia coscienza. Perché stiamo attenti che se affermassimo che esiste una conoscenza esterna a noi, in grado di dire cos'è la nostra coscienza, cadremmo in questa situazione paradossale, che qualcun altro fuori di noi conosce noi stessi, la nostra coscienza, meglio di noi stessi. Ora, io penso che dal punto di vista ragionevole questo non possa essere sostenuto. Quindi io ho bisogno di dare un giudizio mio personale, cioè ho bisogno di partire dalla mia esperienza. A me sembra che questo è il punto fondamentale. Io per potermi porre in termini ragionevoli il problema della coscienza devo partire dalla mia esperienza personale, perché è lì nell'esperienza che la realtà emerge. Appunto, per capire che cos'è la coscienza io ho fatto un esempio di esperienza. L'esperienza è più vasta della nostra capacità analitica, teoretica e di definizione. È più ricca. devo riflettere su di me, su me come concretamente mi muovo e agisco. Ma questo non basta. Devo avere anche un criterio, un criterio per giudicare se quello che sto rilevando è giusto o no, è corretto o no. Allora, questo criterio di giudizio potrebbe essere esterno a me, ma se fosse esterno a me ricadremmo nella contraddizione di prima. Deve necessariamente essere dentro di me, perché possa essere non alienato, perché possa essere me stesso nel giudicare che cos'è la mia coscienza. Allora, questo vuol dire che non esiste possibilità di un criterio oggettivo, stabile, che ognuno può avere la sua idea. No, anche questo ovviamente non funziona. Ma la soluzione di per sé è molto semplice. Questo criterio è dentro di noi, ma non è in balia nostra. È iscritto in come è fatta la nostra coscienza. Anzi, ne costituisce il nucleo essenziale. Del resto, un bambino esquimese e un bambino pigmeo dell'Africa sono due mondi completamente diversi, due ambienti completamente diversi, eppure come fenomeno sono assolutamente simili. E noi comunichiamo benissimo, capiamo e ci siamo entusiasmati da Omero, anche se questo ha vissuto in un'altra civiltà in un'altra epoca. C'è qualcosa che ci rende uomini, che ci rende dotati di quella coscienza, di quella caratteristica appunto unica che abbiamo fra gli animali. Il criterio di giudizio che ogni uomo possiede, in quanto appunto è un uomo e non un animale, è costituito da quell'insieme di evidenze ultime, non ulteriormente analizzabile, e da quelle esigenze di cui siamo fatti, che ci costituiscono. L'evidenza, dico sempre in ambiente medico, che uno per esempio di queste evidenze è questa assoluta certezza con cui io posso distinguere questo microfono che mi sta davanti, che è un oggetto esterno a me, e il mio concetto di microfono, che è una rappresentazione mentale. Io ho un'assoluta possibilità di riconoscere ciò che è reale rispetto a ciò che è rappresentazione mentale. C'è una patologia in cui questa distinzione non salta, si chiama schizofrenia, dove quindi le rappresentazioni mentali assumono valore di realtà, con le conseguenze che conosciamo possiamo immaginare. Dico appunto qui, in questa slide, la difficoltà che comunque resterà comunque sempre a ridurre la coscienza a pura funzione del cervello. Guardate questa qui di Crick, nessuno ha mai fornito una spiegazione accettabile di come l'esperienza della rossità del rosso nasca dall'attività del cervello. Insomma, le mie esperienze personali sono le esperienze di un soggetto, e questo soggetto è qualcosa che appunto, lo dice la parola, sfugge continuamente ogni processo di oggettivazione. Allora, se questo è il punto di partenza ragionevole, a me sembra che possiamo tranquillamente accettare le prossime affermazioni, e cioè che se io esamino come sono fatto, io scopro che sono fatto di due ordini di fenomeni, cioè un ordine di fenomeni fisico, il mio corpo, il mio cervello, che è fatto di protoni, di neutroni, di elettroni, e poi sono fatto di un altro tipo di fenomeni, che sono i concetti, le idee, le verità matematiche, i giudizi di valore. Le caratteristiche di queste due ordini di fenomeni sono intrinsecamente diversi, non sono riducibili uno all'altro, restano inesorabilmente irriducibili. È molto interessante che l'homo sapiens, cioè noi, siamo la specie, sicuramente tra le specie animali, ma anche tra tutte le specie umane che si sono succedute, la meno specializzata di tutte. Quella che è arrivata alla coscienza, come noi la conosciamo, è la specie che era la meno specializzata a sopravvivere nel proprio ambiente. Infatti è nata la coscienza. Poi ci ha dato un vantaggio enorme, probabilmente abbiamo fatto fuori tutte le altre specie con cui abbiamo pure convissuto. L'uomo è una unità duale, esiste solo come persona, una unità costituita da due tipi di fenomeni, di cui quello non materiale non è riducibile ai precedenti biologici e sociologici che pure costituiscono la persona. La dualità nell'unità è, a dire il vero, la caratteristica di tutte le cose di questo mondo. Il più piccolo sassolino può essere analizzato molto finemente nella costituzione fisica e chimica, fino a enumerarne anche tutti gli atomi, i protoni. Ma c'è un aspetto di questo sassolino, il fatto che c'è, infatti è espresso dalla parola essere, che dice questo altro aspetto. Aspetto, peraltro, che noi non possiamo determinare, perché io non posso far esistere neanche il più piccolo sassolino. Lo ritrovo, lo riconosco, lo analizzo, ma non lo posso far esistere. Così sarebbe molto interessante applicare questo alla vita, ma non abbiamo il tempo di farlo. Come mai è così difficile per noi ragionare di queste cose? Come mai siamo continuamente tentati di, appunto, come fa, non so, anche tutte le pagine scientifiche dei giornali, di ridurre la questione, appunto, a un riduzionismo che concepisce la coscienza come pura funzione del cervello. Perché siamo tutti figli di Cartesio. Che cos'è che ha fatto Cartesio? Cartesio ha fatto una scoperta incredibile, perché per tutta la filosofia precedente il fattore fondamentale che colpiva gli uomini era la meraviglia delle cose, l'ordine del creato, la bellezza del cielo stellato. Era questo il punto di partenza di ogni concezione umana. Cartesio si accorge, ed è entusiasmato dall'idea che forse c'è una cosa ancora più meravigliosa di tutto questo, ed è la coscienza dell'uomo, quella che si rende conto di questo. Perché senza una coscienza tutto quello sarebbe lì, ma nessuno se ne renderebbe conto. E è lui che introduce la parola coscienza, ed è tale la scoperta che poi, appunto, non si parla più di anima, si parla di coscienza, e come sappiamo per lui la coscienza è l'evidenza più grande che c'è dall'esperienza umana, molto maggiore del corpo. L'idea che lui aveva di corpo, siamo nel 1600, non ci sono le nozioni di biologia, lui pensava che fosse una macchina. E quindi si è messo a parlare di res cogitans e res estens, e ha creato l'enorme problema in cui noi ci dibattiamo. Cioè ha fatto dell'uomo due sostanze, l'uomo è fatto di due sostanze, ma a questo punto se noi concepiamo due sostanze divise, il grande problema è come fanno a comunicare fra di loro. Sapete qual è la risposta che lui ha cercato di dare? Ha cercato di dare la risposta che l'anima, la coscienza, risiedeva nell'epifisi, che è una ghiandola mediana alla base del cervello, che era accordata al resto del cervello come una specie di cocchio. E allora lui ha immaginato che l'anima governasse il cervello dall'epifisi. Pensate che Crick, lo stesso che ho citato prima, scopritore del premio nove per la scoperta della struttura del DNA, poi molti scienziati si danno alle neuroscienze nell'ultima parte della loro vita, non necessariamente con gli stessi risultati. A un certo punto ha pubblicato un articolo dove individuava la struttura del cervello deputata alla coscienza nel claustrum, che è una piccola bandeletta grigia, se si vuole fare una carognata all'esame di neurologia o di anatomia si chiede il claustro, ma agli studenti nessuno lo sa mai. E talmente la concezione di Cartesio è radicata dentro di noi. La speranza è quella di trovare finalmente la sede della coscienza. E cos'è successo dopo Cartesio? Dopo Cartesio è successo che nonostante appunto fosse così evidente per lui e anche per tutte le correnti idealistiche che il pensiero, la coscienza è una cosa assolutamente evidente, questa però sfugge ad ogni indagine analitica, scientifica. Invece il cervello si può studiare. E così è venuto fuori il fantasma della macchina, un libro famoso di Ryle, dove appunto gli scienziati cominciano a dire, smettiamola di raccontarci le frottole, non c'è una coscienza, c'è soltanto la macchina e il cervello è quella che dirige la macchina. Vorrei cercare di finire raccontando un'intervista che è stata fatta a Faggin. Faggin è l'inventore dei macrochip, ha il brevetto per il touchpad, il touchscreen, quindi un personaggio veramente che ha fatto tutta la sua carriera nella Silicon Valley e per una vita ha cercato di costruire un computer che imparasse da solo. E queste sono le sue frasi. Era una sfida interessante, ma dopo vent'anni ho capito che non è possibile. La consapevolezza va al di là del meccanismo, è un fenomeno primario, è una proprietà irriducibile della realtà. Ray Kurzweil dice che nel 2045 riusciremo a riversare la nostra consapevolezza su un pc. E lui dice, commenta, un delirio, gli vanno dietro a migliaia, folle, e poi la consapevolezza va al di là dei dati. Una società scientista ci ha fatto il lavaggio del cervello spingendoci a pensare che tutto è macchina. L'universo è una macchina e noi siamo macchine. Assurdo. L'uomo si sta sottovalutando. E lo diciamo non sulla base di un dogma, ma di quanto abbiamo potuto accertare. Lui informatico. E il 29 ottobre del 14 ha fatto all'Accademia Galileiana di Padova la conferenza sulla natura della realtà vista attraverso le lenti della fisica classica, della meccanica quantistica, e infine di chi consideri la consapevolezza un fenomeno primario. E allora la sfida delle neuroscienze sono andato a, come si fa a fare, c'è il titolo della conferenza, era nuovi fatti e nuove domande. In generale come si fa a vedere i nuovi fatti? Si va su PubMed, si digita così, perché è molto strano, perché non è detto che vengano fuori dei fatti, possono venire fuori anche delle teorie. Di questi articoli quello che mi ha colpito più di tutti è stato un articolo che è di dicembre, che potete ritrovare anche attraverso quel, c'è un link con Frontiers in Neurosciences, dove ci sono una serie di riviste dedicate ai vari aspetti delle neurosciences, e quella nella sezione Hypothesis and Theory Article dà questo titolo, Life and Understanding, The Origins of Understanding in Self-Organizing Neuron Systems, cioè dove la teoria che viene espressa è come ha fatto a nascere la coscienza, perché i neuroni si sono messi insieme e hanno cominciato a risuonare davanti all'impatto con la realtà e pian piano si è formato. Si parte già dando totalmente per scontato che la conoscenza, il cervello, significativamente non si parla di coscienza ma di comprensione, perché è un po' più facile da trattare, nascono comunque dal cervello e questo vuol dire aver mancato quel punto di partenza che ho detto, senza del quale poi ovviamente tutto il resto non potrà mai riportare al vero, alla vera situazione, perché io ho già predeterminato le condizioni della teoria, in questo caso di una pura teoria, ma nessuna base scientifica di dimostrazione. E secondo me il vero problema è che effettivamente nonostante ci siano investimenti enormi, forse sapete che uno dei progetti di ricerca più grossi finanziato dalla comunità europea è proprio Human Brain Project, che ha avuto un miliardo e duecento milioni di euro in dieci anni, che aveva come scopo, l'hanno dovuto ridimensionare dopo una lettera di protesta di 650 neuroscienziati, di costruire il modello computeristico dell'intero cervello umano. Quindi nonostante tutto questo, vere scoperte stentano a emergere, si vanno a limare aspetti, per esempio uno degli aspetti che emerge anche da questa ricerca è che si può benissimo andare a vedere, a giocare su degli stimoli che sono subliminali e quindi che vengono in qualche modo percepiti da noi, ma non a livello della coscienza. L'altra sera, nel mio modo di guidare che è un po' scorretto, a un certo punto mentre superavo c'era la macchina dei carabinieri e ho avuto la netta percezione che io mi sono fermato e sono rientrato e ho cominciato questa manovra molto prima che fosse cosciente, perché l'allenamento, perché questo è come siamo fatti, perché avvenga la coscienza di un atto ci vogliono circa 200-300 millisecondi, mentre invece le reazioni motorie eccetera sono molto più rapide, per fortuna ci salvano anche, ci possono salvare dal... Noi è molto interessante che tutto l'uomo è fatto in maniera tale che proprio perché ci possa essere questa capacità di coscienza da una parte e dall'altra di movimento libero che noi abbiamo, ci sono tutta una serie di meccanismi non coscienti che devono funzionare alla perfezione, senza del quale tutto questo non è perfetto. Quindi vorrei finire proprio con questo, che a me sembra che il rischio in cui noi corriamo sia quello sottolineato da Dreyfus o da Fagin, non dobbiamo rinunciare alla totalità del funzionamento della nostra intelligenza e della nostra coscienza. Queste cose le ho fatte anche perché sono stato coinvolto dal mio capo dell'università, il professor Savoldi, e abbiamo scritto questo libro, La coscienza, dove un po' ponderoso, che contiene molti di questo, un esame anche di molte posizioni di neuroscienziati che può essere utile in questo campo se uno vuole approfondire. Bene, grazie. E adesso se volete un attimo mettere tutti e due qua e cominciate a discutere un po' tra di voi, poi diamo la parola anche al pubblico. Quindi iniziate anche voi a prepararvi se avete qualcosa da chiedere. Un tempo un po' ce l'abbiamo, però intanto cominciate voi. Prego. Avete preso le ferie, perché dopo quello che ha detto lui potrebbe... Due cose brevissime. Intanto ci sono degli aspetti di simmetria in quello che ha detto tu e quello che ha detto io, che mi hanno colpito tantissimo. Faccio breve così. La prima è questa. quando abbiamo invitato Noam Chomsky a inaugurare la sede della scuola universitaria dove sono io, il titolo della sua conferenza erano i limiti della conoscenza umana e ha parlato del Ghost in the Machine e ha fatto un paragone molto interessante. Anche lì sembra veramente ai limiti della fantascienza. Newton a un certo punto si trovava... Parlava di Newton e diceva Newton si è trovato a porsi il problema della gravità, come facesse la Luna essere intrappolata intorno alla Terra a girare. C'era una teoria imperante che è la teoria dei vortici di Cartesio, tra parentesi, che è veramente un po' lo spartiacque, il padre putativo della nostra scienza. diceva come quando voi tirate via il tappo da un lavandino e inizia un gorgo e le foglioline di insalata iniziano a girare intorno al gorgo. Così la Luna è intrappolata intorno alla Terra da un gorgo di etere. Newton diceva questa teoria è elegantissima ma non spiega un accidente di niente. La teoria di gravitazione di Newton si basa... è una teoria che spiega qualcosa perché ammette, perché descrive l'azione a distanza tra le due masse. Ora, l'azione a distanza è una bestemmia per un cartesiano. Tant'è vero che Leibniz, che ce l'aveva su con Newton per altri motivi, gli ha fatto sapere che l'avrebbe denunciato per stregoneria, perché queste cose le fanno soltanto gli alchimisti. Newton si spaventa e in un libro meraviglioso di Westphal, che ha dedicato tutta la sua vita a Newton, dice che Newton si era così spaventato che aveva nascosto la sua teoria, perché aveva capito che la teoria sua che spiegava qualcosa, cioè misurava la trazione tra la Terra e la Luna, ammetteva qualche cosa che andava contro la riduzione ai contatti meccanici che imperava nella teoria dell'ora. Perché Chomsky parlava di Newton, di Cartesio, di Terra e di Luna quando parlava della mente? Perché lui ha detto questa frase, Quando Newton ha iniziato a occuparsi di gravità, invece che esorcizzare il fantasma dalla macchina, ha esorcizzato la macchina, cioè ha rimesso un dato reale, che è la misura della trazione, derogando al principio di riduzione ai contatti meccanici. Lui dice che le neuroscienze contemporanee si trovano in una situazione simile a quella in cui si trovava Newton. L'idea di dover ridurre tutto a una meccanica neuronale, rinunciando alla spiegazione della realtà, in questo caso la creatività linguistica, era lo stesso errore. E quindi in fondo tutti stiamo aspettando un Newton nella neuroscienza che abbia il coraggio di dire che esorcizzare il fantasma dalla macchina ci porterebbe indietro. Anche se forse adesso qualcosa che ha smentito Newton c'è stato, che sono le onde gravitazionali. Quindi... No adesso, però il paragone tiene invece per... Adesso, appunto, l'argomento principale è questo. Io, cioè la mia soggettività, come può essere ridotta a un aspetto fisico, un aspetto... Adesso, esaurirsi in meccanismi chimico-fisici. Questa è la contraddizione. E' la contraddizione che, appunto, a me sembra che se uno mantiene la propria... la propria adesione all'esperienza, non può non riconoscere l'enormità del problema. Insomma, come fa a venire fuori un io, una soggettività da meccanismi? Questo è il vero problema, cioè. E mantenere aperta questa possibilità, secondo me, è molto importante per le ricerche, per impostare bene le ricerche. Altrimenti, noi andiamo molto più facilmente in vicoli ciechi. Adesso, poi, io penso che verranno fuori anche cose naturalmente buone dal Human Brain Project. Ma, appunto, il rischio è quello di percorrere dei cammini dove è già in atto un pregiudizio, dove non c'è un'apertura totale alla realtà. Un'altra cosa, però io vorrei dire, non vorrei rubare spazio eventualmente anche a vostre domande, anche su curiosità o chiarimenti. Quindi, se ci sono, interrompetici. Altrimenti, una cosa che avrei aggiunto è questa. Tu hai fatto un paragonè, è stupendo, no? La questione di cosa produci un rene. Ma, in generale, tu prendi, come funziona il fegato? Se tu mangi un uovo sodo o una caramella alla menta, non c'è l'area dell'uovo sodo e l'area della caramella alla menta. E poi puoi andare a misurare degli enzimi. Ora, voi capite bene che se dovete descrivere una lingua umana, voi non potete fare a meno della nozione di parola e di frase. Non ce la fate. Non c'è nessun modo per descrivere il codice di comunicazione umano senza queste due nozioni. Vi faccio soltanto notare che la nozione di frase, a metà del Novecento, aveva 300 definizioni diverse. Questo per farvi vedere come sembra intuitivamente evidente, ma se voi ci provate, provateci uscendo di qua a dirvi che cos'è una frase, è difficilissimo. La cosa interessantissima è che siccome tu hai bisogno della nozione di frase e di parola, ti sfido a trovare, non te, intendo dire, ti sfido chi vuole vedere nella riduzione alla meccanica dei neuroni, la nascita e l'emergenza del linguaggio, a trovare un'analisi quantitativa che ti faccia vedere come possono emergere due nozioni così fondamentali come frase e parola e come possono essere misurata. Quindi, una delle cose belle del linguaggio, anche della coscienza, però mai la coscienza fa paura, non sono capace di manipolarla neanche in astratto. E tra l'altro, come linguista, vedete, io non ho mai usato la parola significato. C'è un motivo. Io, tra i linguisti, sono più simile a un chimico, dove per me le parole sono atomi e le frasi sono molecole. Io studio la geometria di queste molecole. Non mi occupo del significato. Ecco, allora, una cosa interessante, secondo me, è notare che se tu vuoi capire questa geometria, entra in gioco tutto quello che puoi dire sull'uomo. Non si sottrae niente. E questa è una delle cose belle. Una specie di unità di fatto. Come se, nel linguaggio umano, tutti fossero autorizzati a dare dati in più per capirci. Senza avere, peraltro, minimamente la garanzia di arrivare a decifrare quel famoso autore che è voltato nel quadro di Gump. Avevo per te una domanda. Sarebbe, secondo me, molto interessante fare l'esperimento che avete fatto su Broca o sulla scrittura sull'area di Verniche e della comprensione. Per vedere che tipo di risonanze, di onde ci sono su questo versante che è quello vero dell'affasia. C'è stato al giro del Novecento, c'era una grande discussione tra neurologi in Francia, tra Pierre-Marie e Babinski. Perché Pierre-Marie sosteneva che l'affasia è una sola ed è quella di comprensione, quella che dà la demenza anche. Mentre tutte le altre affasie sono una specie di incapacità di articolare le parole. Questa è un'altra questione molto importante per i neurologi perché io posso avere l'incapacità a parlare perché non riesco più ad articolarle per un problema muscolare, per esempio cerebellare. Se ho una sindrome cerebellare molto grave non si capisce più quello che dico perché il cervelletto è essenziale ad armonizzare tutti i movimenti che mi permettono di esprimermi. E questo è qualcosa di molto periferico, esterno al linguaggio. L'affasia di Broca è qualcosa di più interno al linguaggio appunto, c'era questa discussione in Francia insomma. Quindi sarebbe veramente molto interessante scoprire quali sono... Ma guarda, hai perfettamente ragione ma andrebbe completamente rifondata l'affasiologia. Per esempio molti miei colleghi italiani credono che l'affasia di Broca sia una lesione alla sola area di Broca. L'affasia di Broca, se tu vuoi prendere anche i manuali ma questi evidentemente li ignorano. è una lesione molto più importante. Quindi c'è anche una sedimentazione terminologica nei fatti. Quello che mi sembra interessante è che per la prima volta noi abbiamo una prova indiretta che un fatto tipicamente astratto, se volete denominato astratto come le regole di un linguaggio hanno un riflesso che invece più concreto non potrebbe essere cioè l'andamento del flusso ematico all'interno del cervello. Questa cosa qua, se utilizzata bene avrà un futuro enorme nella ricerca. C'è un dato che però mi piace citare. Guardate, mi sono imposto di citarlo ovunque. Se volete zittitemi però Mauro ha citato, io l'ho citato anche durante la prolusione di un anno accademico un dato corretto Human Brain Project ha mobilitato un miliardo e quattrocento milioni di euro. Sono ventitré paesi che in dieci anni hanno rastrellato un miliardo e quattrocento mila euro un pochino meno ma insomma stessa cosa fatta dagli Stati Uniti. Sapete quanto ha speso in un anno la sola Italia in scommesse legali? Quindi avete da una parte dieci paesi europei scusate, ventitré paesi europei per dieci anni mobilitano un miliardo e quattrocento mila euro in un solo anno nel 2014 di scommesse legali in Italia quanto abbiamo speso? Quanto abbiamo speso? Quattrocento miliardi No, più. Avanti, chi offre di più? È un'asta Chi offre di più? Professore Patriarca 84 miliardi Noi, il nostro paese gioca e questa è una media che vale per tutti i paesi europei è un dato istat citato nel Corriere della Sera del 2015 comunque potete trovare si sa sapete perché si sa? Perché c'è un gettito erariale che corrisponde circa a 8 miliardi e mezzo nel 2014 questo vuol dire che abbiamo sbagliato noi ha sbagliato l'università ha sbagliato la scuola perché se la nostra società riesce in un anno a impegnare 84 miliardi per tre fragoline di bosco o perché vinca un cavallo e sto parlando del lecito e non sa impegnare e gestire questi soldi per un bene comune come potrebbe essere la comprensione non solo del cervello ma di qualsiasi cosa che ci è utile vuol dire che c'è un errore e quindi vuol dire dov'è Paolo vuol dire che eventi come questi servono perché si riesce a condividere questa cosa e produrre pressione sociale perché i soldi della nostra società non finiscano in scommesse ma in ricerca ben fondata e la proporzione è umiliante se vi permettete perché tra 1 e 84 bene qui possiamo iniziare a dare la parola a qualcuno c'è qualcuno che ha domande perché un po' c'è tutto in un dato se non c'è nessuno con l'ultimo ah c'è c'è una persona sono un po' lì buonasera la mia domanda era visto che il linguaggio parte da una costruzione come la definizione architettonica della lingua eccetera e ho trovato molto interessante la la spiegazione dell'arene che ciò sto per dire c'è meglio del sangue eccetera quando l'area ipotesi sorpreme ammigliata viene per esempio sottoposta allo stress cosa succede cosa avviene per il quale cioè l'architettura rimane stressa o si modifica un dono più pari di idea sa perché lei ha visto quello che io con i colleghi abbiamo scoperto è una cosa talmente piccola rispetto al linguaggio non sappiamo praticamente niente qui la sua domanda è una domanda molto interessante ma come si fa vedete noi stiamo balbettando per quanto riguarda gli studi del linguaggio del cervello noi possiamo soltanto vedere come si rispecchiano sul cervello delle grandi proprietà linguistiche per esempio essere o non essere presenti regole che si inscatolano ma se lei legge una lista della spesa o una poesia demontale è evidente che questo avrà un riflesso su lei come persona come organismo come mente come cervello ma da lì a misurarla non si sa una volta ciò che mi disse se vuoi finalmente capire qualcosa sull'uomo ma legiti guerra e pace l'ho fatto tra parentesi però sono due cose diverse molto interessante però capisce noi non abbiamo che pochissimi mezzi per mettere in relazione la struttura del linguaggio con quello che succede nel corpo pochissimi uno dei quali è per esempio della modificazione dei circuiti però da lì a mettere in relazione cose più sofisticate non si sa proprio la neurologia clinica un po' risponde a questo nel senso che tutti noi sperimentiamo che l'emozione può anche portarci a un blocco dell'espressione verbale una crisi di panico una ufobica può bloccare una persona che sta parlando in pubblico per esempio e sicuramente questa viene accesa attraverso l'amigdala attraverso io in quel caso lì da linguista ti direi agisce sulla comunicazione perché per esempio voglio dire noi in italiano abbiamo un fenomeno che voi lo conoscete di sicuro che lo usate la selezione dell'ausiliare la selezione dell'ausiliare negli intransitivi noi italiani abbiamo un fenomeno curioso esse deve avere negli intransitivi è stato Luigi Burzio con la sua tesi di dottorato nel 1986 fatto a MIT e poi Luigi Burzio ha insegnato a Harvard e ha diretto la Johns Hopkins Department of Cognitive Science che ha scoperto qual è la regola soggiacente ora non c'è nessuna condizione emotiva che ti fa invertire essere o avere esiste però ed è sacrosanto quello che lui dice tutto l'aspetto comunicativo ed emotivo addirittura ci sono aspetti al margine la balbuzie per esempio è un fenomeno che è fortemente influenzato dall'emozione la balbuzie non è mai casuale la balbuzie è un fenomeno molto complicato che prevede il fatto che il cervello analizzi i mattoni di parola in modi diversi tant'è che esistono balbuzie diverse c'è la balbuzie di chi non riesce a innescare la parola e c'è mamma e la balbuzie di chi invece ripete la sillaba ecco per esempio questo è un argomento interessante ed è molto poco affrontato una delle cose che dice il professor Magrassi che è quello con cui ho lavorato con l'esperimento è che probabilmente la balbuzie potrebbe essere uno scarto tra le onde di rappresentazione in brocca del suono e il comando nel muovere la bocca arrivano sfasate e non sapete cosa succede però sono cose di questo tipo ma sulla struttura del linguaggio non ci sono modulazioni misurabili grazie altre cose? grazie a voi volevo fare una domanda a sostituzione ho sentito che in caso di persone che sono forti a parte di il cervello hanno avuto una difficoltà in personalità come si articola con un concetto di coscienza di coscienza sì sì assolutamente succede così io personalmente ho seguito soprattutto un caso che mi è accaduto di una giovane che è stata sottoposta a una asportazione del lobo temporale di sinistra per una epilessia farmacoresistente se sapete che adesso circa un 25-30% delle epilessie non riusciamo a dominarle adeguatamente con una terapia farmacologica e in questi casi c'è stata una lunga ricerca avversata all'inizio perché si sosteneva che comunque l'intervento chirurgico a sua volta sarebbe stato fonte di epilessia che poi invece si è affermato ormai in maniera molto precisa per cui questa persona che io ho seguito l'ho seguita prima tentando di curarla e poi l'ho indirizzata al centro che c'è Aniguarda per questo tipo di terapie ed è stata operata e ha avuto una risoluzione completa dell'epilessia che gli aveva devastato la vita e tuttavia è passata sta ancora passando attraverso una serie di fasi di cambiamenti di personalità veramente impressionanti per esempio il primo fenomeno che è successo che è stato scioccante era che aveva un moroso e l'istante in cui lei si è svegliata dall'operazione quello non era più niente per lei non voleva vedere era come un estraneo e non aveva nessuna attrattiva per lui così poi è andata ha avuto delle crisi di agitazione estrema eccetera molto difficile da inquadrare anche perché appunto non è che molto prima di adesso siano state fatte operazioni di questo genere dobbiamo imparare a conoscerle ma comunque ci sono fenomeni di questo genere sono molto ben noti in neurologia forse lo conoscete anche voi nella malattia di Parkinson soprattutto quando usavamo i farmaci agonisti dopaminergici quindi che vanno a stimolare direttamente lo stesso recettore che stimola la dopamina che viene meno nel Parkinson e quando usavamo i farmaci di estrazione naturale adesso ce ne sono di sintesi che hanno un po' meno questa azione questi potevano determinare il gambling per esempio oppure altri di portare soldi alle scommesse oppure per esempio anche l'ipersessualismo perché perché l'uomo è fatto il mio io non esiste senza il mio cervello è profondamente influenzato e il mio io influenza il cervello cioè appunto il mistero la bellezza dell'uomo è proprio il compenetrarsi assoluto di questi due aspetti quindi cioè sicuramente noi conosciamo molto bene queste cose è molto interessante che però non si riesce fino in fondo a determinare l'io forse saprete in Russia a un certo punto hanno cambiato i libri di psichiatria e ci hanno fatto diventare il fenomeno del 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 dissenso un fenomeno patologico li hanno riempiti di neurolettici solo che cosa succedeva che quando questi emergevano dal sonno dalla sonnolenza o dal coma in cui li mandavano con questi farmaci erano ancora più convinti che il dissenso era giusto perché sperimentavano su di sé la contraddizione cioè quindi è molto interessante che è vero il nostro comportamento noi stessi possiamo essere modificati attraverso agendo sul cervello ma fino a un certo punto questo le cose sono sono fatte piuttosto bene per cui probabilmente non esisterà la possibilità di un dittatore che dia a tutti la pillola giusta in maniera che tutti siano sottomessi è difficile spegnere completamente il l'essenza il nocciolo del che costituisce l'io mi viene in mente una cosa seguendo quello che dice io c'è un capitolo dei confini di va bene dove affronto un problema dico siccome noi siamo costruiti sulla base di geni come mai non ci sono mutanti umani che sono in tutto uguali a noi solo che non hanno un linguaggio cioè sono come una scimmia sanno le parole ma non le frasi e ci sono due possibilità la prima è che i geni che esprimono il linguaggio sono tutti i geni che esprimono l'uomo la seconda è che i geni che esprimono il linguaggio si esprimono anche in organi vitali e quindi se sono danneggiati non nasce l'individuo se ci pensate dal punto di vista evoluzionistico questa cosa qui cioè di non avere mutanti muti è una protezione enorme per la nostra specie e che ci salvaguardia anche dalla creazione di schiavi naturali che porterebbe un problema un problema etico gigantesco noi per fortuna esseri umani questo se vuoi è il versante apocalittico in qualche modo del termine non riusciamo a non parlare non nasciamo nemmeno quella cosa che diceva Cartese non esiste un essere umano che non riesca a mettere naturalmente poi c'è la questione patologica una volta che l'individuo nasce quello è evidente però è un altro discorso un'altra cosa stupenda insomma magari quando si parla di casi medici non si può mai dire stupendo bellissimo perché insomma uno non si augura mai però in questo caso tra l'altro è un caso che ho visto da vicino di una persona poliglotta sapeva cinque lingue che erano italiano francese tedesco inglese e dialetto di cittadella in Veneto questa persona ha avuto un tumore benigno ed è stata operata ed era dipendente di Harvard University Harvard che vuole essere all'avanguardia anche nell'assistenza medica dei dipendenti ha messo intorno al letto quattro interpreti questa persona qui ovviamente si è risvegliata aveva perso tutte le lingue meno una il dialetto di cittadella questo per dire che c'è anche questo mistero che come mai possano convivere nella nostra testa lingue diverse guardate che le lingue includono i dialetti molti di noi io per esempio sono stato educato da una da mia nonna che era nata nel 2000 no si ciao che era nata nel 1914 e quindi io ho imparato l'inglese e il dialetto pavese da sette anni quando sono stanco mischio queste due grammatiche qua la coesistenza di due lingue nella stessa testa è un problema teorico enorme è come avere contemporaneamente la possibilità di dormire e sta svegli non so come dire qualche cosa che sembra un controsenso tanto più che una lesione focale in un punto può eliminarne una sola c'è una particolare del cervello che è un posizio di puntata alla un minore di lingue perché ci sono persone che sono più in tante zone dunque intanto se fosse un esame si sgriderebbe il professor Ceroni perché le aree non ci sono più ci sono soltanto reti che si attivano preferenzialmente però l'articolo quello che è uscito su Nature in Euroscience era proprio su language acquisition sull'acquisizione del linguaggio ci sono certamente dei circuiti che sono deputati all'apprendimento del linguaggio nella vita hai un periodo utile entro il quale se non sei esposto a una lingua straniera poi dopo devi studiartela andando a prendere un libro facendo esercizi fino ai sei anni e certamente prima della pubertà più o meno acquisisci spontaneamente però ci sono delle differenze sostanziali individuali ma per esempio esistono individui intonati e individui stonati ora non è che uno voglia dire che la musica sta soltanto nella testa di qualcuno ci sono delle differenze individuali si è proprio una nozione assolutamente comune che prima dei quindici anni la lingua viene appresa praticamente senza accento dopo invece per quanti sforzi si possono fare un po' di accento resta perché viene meno quella plasticità dei centri del linguaggio dal resto noi impariamo la lingua cominciando a parlare un anno e mezzo così è e proseguiamo a imparare la lingua fino alla fine del liceo soprattutto per poi la scrittura eccetera non tutti ci riescono lo sai che adesso mi viene in mente questa scoperta qui era il nucleo del libro The Biological Foundations of Language di Eric Leneberg e l'anno prossimo è il cinquantenario quindi sono previsti un sacco di manifestazioni il libro è stato tradotto anche in italiano è bellissimo si chiamano i fondamenti biologici del linguaggio ma non si trova più potremmo organizzare io mi ero preparato sulla lingua marziana essendo una cosa di fantascienza mica chi è che cioè lui sve siamo il professore patriarca è un mio amico e vuole svelare una cosa che io no di solito dico che ho inventato una lingua artificiale per paperinic che include anche guardate quella delle lingue artificiali è un tema interessante a Pavia tra l'altro tu prima hai detto che l'anno prossimo la rassegna sarà sui viaggi noi abbiamo un corso perché uno dei nostri alla scuola universitaria superiore c'è un un nostro professore che fa parte dell'agenzia spaziale italiana anche internazionale e tiene un corso sulle vite possibili e io farò una lezione sulle lingue possibili perché vedete come nel medioevo ci sono un sacco di testi sulla teoria della lingua che si riferiscono alla lingua degli angeli perché sono un modo con cui tu ti spremi il cervello e qui si diceva come parlerebbe un angelo se parlasse e allora ti dici per esempio non userebbe l'ordine lineare perché se parlasse a Dio avrebbe contemporaneamente tutte le parole già presenti eccetera eccetera c'è un bel libro di Eco che tratta anche di queste cose le lingue marziane sono un altro esercizio e sarebbe è interessante proprio perché cerca di è un po' come ho fatto con la lingua dell'Evroniano cerchi di togliere per esempio io mi ricordo che agli studenti alle prime lezioni dicevo fatemi l'elenco delle proprietà che secondo voi non possono influenzare la struttura del linguaggio per esempio tu non ti aspetti una grammatica che cambi gli ausiliari a seconda della temperatura o della velocità a cui parli è molto interessante pensare che molti fenomeni incluso la coscienza sono stabili al variare delle condizioni ambientali poi uno mi ha detto se fa molto molto freddo però io lo so cosa dico allora ho un altro discorso forse di qualcosa sul centro della scrittura perché secondo me quello è una cosa veramente la scrittura è un tema molti confondono perché pensano che sia coesistente con il tema del linguaggio e non è vero il linguaggio la scrittura nasce dopo nella specie e nell'individuo nell'individuo perché lo sappiamo nasce quando te la insegnano nella specie a noi risulta che la scrittura nasce 3000 anni prima di Cristo quindi che ha circa 5000 anni se quella datazione che io vi ho dato bassa sui 100.000 anni è vera noi è 100.000 anni che parliamo come parliamo adesso con altri vocaboli altri suoni ma chiamiamo grammati perché non ci sono state mutazioni allora la prima domanda è cosa ce ne siamo fatti cioè come mai noi usiamo la lingua solo da 5000 anni uno potrebbe dire beh perché è un artefatto culturale di origine arbitraria c'è un esperimento molto interessante due esperimenti per me io vi descrivo quello fatto a Pavia da Lorenzo Magrassi che di fronte a un paziente che si è presentato in pronto soccorso incapace di scrivere una persona di cultura era un dirigente d'azienda Lorenzo Magrassi ha operato questo paziente in chirurgia in anestesia locale in chirurgia quindi in stato di veglia e gli ha chiesto di scrivere e come vi dicevo prima toccava la superficie della corteccia interagendo con l'attività elettrica della superficie mentre scriveva c'è un punto della corteccia toccando il quale il paziente è incapace di scrivere ma non perché si blocca la muscolatura perché sapeva disegnare anche quindi sa disegnare un cavallino una casetta ma non sa scrivere più cavallo e casa quindi evidentemente ci vuole un circuito dedicato anche per la scrittura allora la domanda se noi ai centomila anni che parliamo e scriviamo da cinquemila anni cosa abbiamo fatto i novantacinque mila anni con quel pezzo di cervello e qui inizia invece la risposta di un altro mio amico caro e collega che si chiama Stanislas Dehan che ha diretto per anni la Inserm a Parigi e che adesso andrà a inaugurare un centro di neuroscienza di Marsiglia che crede che la scrittura sfrutti una capacità tutta umana e solo umana di riconoscere delle microsimmetrie fondamentalmente quando noi scriviamo giochiamo su questo fatto e immaginate la L la L voi la vedete giusta così vero? così la vedete girata molti bambini scrivono la L girata da destra a sinistra molti altri la scrivono giusta a seconda della cultura in cui sei sei una lingua destra sinistra sinistra destra Dehan crede che un danno nel riconoscimento delle microsimmetrie sia la causa della dislessia e che quindi in realtà quello che il cervello ha reclutato per scrivere fosse una capacità che per 95.000 anni è stata utilizzata per riconoscere per esempio gli insetti per riconoscere costruire utensili cioè che è usata è stata usata al cervello per un tratto di evoluzione in un modo e poi da un punto in poi in un altro certamente le due scoperte l'ipotesi lui chiama Cognitive Recycling Recycling come si dice? Riciclaggio ma no il riciclaggio è quello è quello eh sì è quello economico si chiama non c'è forse il denominale riciclo non so riciclo ok il riciclo cognitivo da una parte e la scoperta di una rete dedicata fanno vedere che la scrittura è un fenomeno che spiega tanto dell'evoluzione perché ti dice come qualche cosa cresciuto per un motivo può essere all'improvviso reclutato per un altro il linguaggio invece è radicalmente diverso il linguaggio probabilmente non ha avuto una forma di autostop genetico come nel caso di quel tipo lì e poi è diverso scrivere a mano e battere sulla tastiera fantastico ci sono per esempio io una cosa che quando troverò un neuro quando le conversazioni tra di noi non possono languire perché abbiamo una quantità di argomenti ma se dovesse mai languire c'è una domanda che a me appassiona da sempre cioè voi sapete io sono un mancino corretto comunque i destri mi scrivo con la destra che è controllata l'emisfero sinistro ai mancini ti viene da dire il linguaggio è controllato l'emisfero destro ora solo il 30% dei mancini inverte il linguaggio cioè c'è una resistenza a mantenere il centro di controllo del linguaggio dell'emisfero sinistro e io non riesco a capire perché e mi risulta che non ci siano spiegazioni e questo è molto interessante perché vedete è sempre il solito discorso noi esseri umani siamo simmetrici fuori e asimmetrici dentro e questa è già una cosa sorprendente ma che ci sia una asimmetria nelle funzioni questo è ancora più sorprendente perché il cervello non ha un vistoso bernoccolo sulla sinistra o sulla destra a meno che non vi abbia dato la botte in testa qui inizia la fantascienza ma vedi allora quello che suggerisce cioè bibliografia io metto sempre nascosto pk qui c'è da cos'è pk è un paperinique evoluto dark inventato da un mio amico si chiama Ezio Sisto che lavorava per la Walt Disney è un comune amico e mi aveva chiesto una lingua per i cattivi di paperinique io ho sfruttato questa cosa e io credo che i miei libri li leggerò mia zia Mauro e pochi amici quello lì ha tirato 300.000 copie ma il mio era un pezzettino però per dirvi e ancora adesso mi iscrivono dovrei lavorare a Walt Disney altro che è ma benissimo poi hai visto aveva sempre i fumenti anche nel nostro cito e c'è qualcun altro ancora? adesso si alza uno mi parla in evroniano e io rimango perché la domanda a questo punto l'osservazione che faccio che mi ha colpito molto che tutti e due avete finito dicendo una cosa che io dico da tempo e che mi sembra che viene molto sottovalutata cioè la mia scala che appunto sono tutti certamente anche perché fa più scena quindi fa più più ovviamente e insomma a preoccuparsi appunto dell'ambito dell'angolo dell'immigra dell'assicurazione che ci mette tutti sotto e invece quasi nessuno molto molto pochi si preoccupano di quest'altro fenomeno che invece è molto più pericoloso e molto più vicino che in parte già sta succedendo c'è che appunto il fondo dell'intelligenza artificiale cerca di evitare l'intelligenza umana quindi ancora riconosce come in qualche modo il modello della superiorità o comunque i termini ideali in quella umana ma qui in alcuni casi stiamo cominciando a raccovole una cosa e sembra che in un modo di caso si voglia quasi che gli uomini prendano come modello di pensare le macchine per esempio questo si vede molto banalmente ma traumaticamente nella tendenza sempre più spinta la burocratizzazione e in generale un po' sempre più regole e rigide e che tutti dicono di non aver fatto il contrario ma invece questo al di là delle tappole cosa succede anche questo anche il campo medico ma qui vabbè ci sono magari anche problemi pratici per questa tendenza a fare continuamente cause per danni o per l'accessi di più del controcoglio di tipo ma non è solo questo è una questione culturale che io temo che sia avere delle radici molto profonde anche perché l'origine del pensiero meccanico giustamente avete anche sculture in cartesio e sono a vedere che l'origine del pensiero cartesiano c'è la paura del rischio cioè la maniera di controllo l'ossessione di controllare tutto le schiere è proprio una latia del nostro tempo e ci si vede l'illusione chiaramente che alla fine si possa evitare questo rischio in fondo controllando tutto meccanizzando tutto questo si vede anche un po' già nella ricerca anche lì le procedure del tempo è sempre più vigile e si tende a privilegiare la ricerca applicata quindi di prevene spiro che è utile anche quella però non si può certo un punto che in realtà è la penalizzazione invece delle ricerche un po' più strane e disinteressate che però può essere quello che portano i progetti più importanti però è chiaro che lì non si sa dove si va a finire a me ha compito molto che per esempio vado spesso molti anni da un peruco da un peruco e nel mondo latino-americano si sta intronendo una tendenza c'è addirittura in molti paesi dei corsi di metodologia della ricerca che sono svincolati certo lì non sanno come si fa la ricerca ma neanche deve diventare una tesi di laurea però la tendenza è che si impone una metodologia stabilizzata a voline in un modo astratto per cui io faccio la tesi di laurea e ho un professore che mi dà il tema e l'altro che mi dà il metodo a prescindere e la cosa pazzesca visto il manuale che va dal maggiore è un'ottocentro pagine che è costruito per la maggior parte di cose di una assoluta banalità e che però uno deve fare e tra le altre cose spesso si partengono che tu dica in anticipo i risultati della ricerca sentire di una ricerca come faccia sapere i risultati in anticipo però detto così è ridicolo ma è una tendenza che certo da noi ci sono più anticorri che non si sa come si fa una ricerca però però ho una certa tendenza verso sempre utile ma anche verso il controllo cioè io voglio assolutamente sempre sapere come le i guardati non so mi devono se io provo a fare una ricerca di base devono accettare un rischio appunto che almeno una parte degli investimenti si perde e alla fine è una linea di ricerca che non porta a nulla ma è il prezzo da pagare perché qualche altra ricerca non porta a nulla di casa come in mente quindi queste due cose mi sembra che in realtà hanno un'origine storica ma anche teorica e anche esistenziale molto vicina e molto stretta cioè da un altro appunto questa tendenza è un'altra fine in termini della questione e hanno il problema dell'altro uomo sul presente della macchina inizio e dall'altro questa paura del rischio vorrei chiedere di fare un commento a questo che potrebbe essere davvero un'unione non solo di oggi ma anche un po' più difficile lo sottoscrivo completamente si rischia proprio di perdere in medicina questo è clamoroso perché non si arriva alla diagnosi la diagnosi è eminentemente un processo sintetico che raccoglie tutti gli indizi e poi e quindi basti pensare faccio questo solo esempio che tutti anche i medici anche gli addetti ai lavori ritengono che le cosiddette flowchart della diagnosi siano lo strumento principale per fare la diagnosi ora basta che uno ci ragioni un attimo e scopri immediatamente che la flowchart non mi serve per fare la diagnosi la diagnosi devo farla io come ipotesi poi una volta che ho fatto l'ipotesi la flowchart mi aiuta a verificarla eppure questa inversione nell'uso di concetti semplici è l'indice purtroppo di questo che sta accadendo dico solo una cosa se voi doveste fare un elenco degli oggetti più utili tecnologici è probabile che le batterie siano tra gli elementi più gettonati la bicicletta batteria teleferica le batterie sono quelle che se voi immaginate che in questo momento tutte le batterie del mondo si fermino non vanno più gli automobili i computer portati gli aerei non vanno più quasi niente come è nata la batteria all'interno di una disputa teologica sull'origine della vita a Pavia Alessandro Volta aveva saputo che Galvani a Bologna sosteneva che l'elettricità fosse l'essenza della vita organica e come ha fatto a mostrare che Galvani aveva torto perché quella infilava correnti elettriche in rane morte che iniziavano a sussultare evidentemente c'era del vero in quello che ha scoperto ma fare dell'elettricità l'essenza della vita per Volta era un po' troppo lo ha detto ci penso io ho costruito un oggetto che non era mai vissuto ma che produceva energia elettrica ecco se c'è qualche cosa che nasce per uno scopo e poi è diventato un altro questo è un esempio tipico se potrebbe fare un altro esempio come dite fuori lì di Pavia deve parlare di Pavia voi sapete che Einstein da giovane è abitato a Pavia tra parentesi nella casa di Ugo Foscolo un cortocircuito epocale vabbè insomma l'idea che Einstein abbia dormito nel letto di Foscolo non so come se Biancaneve fosse uscita con Hitler una cosa che non uno veramente non riesce ecco e perché dico che secondo me Einstein vi vedo nella nebbia pavese noi a Pavia abbiamo inventato la nebbia e le zanzare come voi sapete probabilmente si è reso conto che potevi aver sonato un modello locale di spazio voi sapete che lui dice nella sua autobiografia che la sua domanda sulla realtà era nata dalla domanda di come si sarebbe visto un fulmine andando con un razzo alla sua velocità se pensate che da lì è nata la bomba atomica voi capite che il confine tra ricerca di base e ricerca applicata se c'è è molto labile comunque buffo va bene allora concludo anch'io con un esempio che ci introduce al tema dell'anno prossimo soprattutto su questa questione dei rischi a me chiedono spesso quando la gente scopre che mi insomma sono in contatto con gli ambienti del no con gli ambienti dell'astronautica così perché anche se c'entra perché io faccio parte del gruppo di studio nel seti che cerca possibili tracce di vita intelligente un gruppo dell'accademia di astronautica allora mi chiedono spesso ma perché non siamo ancora arrivati su Marte è un problema tecnologico e io rispondo sempre che certamente è un'impresa molto difficile per su Marte come mai non siamo ancora arrivati su Marte con un equipaggio umano no il problema certamente non sarebbe facile soprattutto sarebbe molto costoso però in realtà tecnologicamente si potrebbe non è già da molto tempo siamo in grado è soltanto molto molto pericoloso e quello che dico è che se noi fossimo avessimo avuto la mentalità di oggi all'epoca del sbarco sulla Luna non ci saremmo mai andati se pensate che tutti i computer della NASA di allora messi insieme avevano la potenza di calcolo di un telefono cellulare quindi e allora la questione è così che io dico con la tecnologia di oggi e la mentalità di allora su Marte ci saremmo già andati mentre con la mentalità di oggi e la tecnologia di allora non saremmo mai andati neanche sulla Luna poi non è che con questo voglio farle l'elogio dell'incoscienza magari anche un po' di prudenza può essere giusta ma la sensazione è che stiamo davvero un po' esagerando nel senso opposto e che bisognerebbe davvero ritrovare un po' il coraggio di rischiare e di non volere sempre avere già tutto calcolato in anticipo se no veramente il rischio è proprio quello che hanno detto loro cioè non tanto che arrivi la macchina intelligente ma che diventiamo noi molto più stupidi di quanto potremmo essere e questo speriamo comunque che non succeda credo anch'io che nonostante tutto alla fine nell'io umano ci sono delle risorse che non possono mai essere del tutto cancellate questo ciclo modestamente vuole essere un contributo piccolo ma insomma a risvegliare un po' questo aspetto facendo anche mettendo insieme anche cose un po' già solo questo l'idea di mettere insieme Goldrick con Presidente Violante o Andrea More e tutte le altre cose che abbiamo messo insieme e già solo questo mix è abbastanza rischioso farlo in certi l'onestate italiane è buonissima però su certe cose un po' conservatrici magari queste cose in altri paesi sarebbero meno pericolose qui un po' però non importa andiamo avanti lo stesso siamo molto contenti di averlo fatto e di farlo anche in futuro spero sempre anche in compagnia vostra ringrazio ancora tantissimo i nostri due relatori di oggi e tutti gli altri che sono venuti in passato e ringrazio voi e spero che ci rivedremo l'anno prossimo con Scienze e Fantascienza che parlerà appunto dei viaggi spaziali e sicuramente ci sarà anche un incontro dedicato proprio a Marte all'anno prossimo grazie a tutti e buon Natale grazie a tutti 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 grazie a tutti